A Catania, la Polizia di Stato, nel quartiere San Cristoforo, ha eseguito mirati controlli volti ad accertare e verificare la presenza di animali abusivamente allevati nella cerchia urbana. In particolare, in osservanza delle direttive del questore, gli agenti hanno concentrato la loro azione in un dedalo di vie del quartiere, effettuando diverse perquisizioni con il supporto di personale veterinario dell'Asp. Le perquisizioni hanno interessato in particolare 5 stalle, che si è accertato essere completamente abusive, all'interno delle quali c'erano anche dei carretti normalmente utilizzati per le corse clandestine. Sono stati sequestrati 5 cavalli tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie e senza microchip. Gli animali sono stati affidati a una struttura apposita. Nelle stalle sono stati rinvenuti e sequestrati anche diversi farmaci dopanti, che verosimilmente venivano utilizzati sui cavalli per effettuare le corse clandestine. Ne è derivata la denuncia per maltrattamenti di animali a carico di tre soggetti. Alcune vie adiacenti alle stalle erano state chiuse con cumuli di spazzatura anche allo scopo di inibire l'accesso ad altri e ad eventuali controlli. L'attività della polizia ha poi consentito di individuare tre allacci abusivi alla rete elettrica da parte degli utilizzatori di due stalle oggetto del controllo, nonché del proprietario di un'abitazione adiacente le stesse. Gli autori sono stati denunciati per furto aggravato di energia elettrica. Le accurate perquisizioni effettuate hanno permesso inoltre di rinvenire e sequestrare 29 bombe carta. Per tale rinvenimento è stato tratto in arresto un 42enne catanese con svariati precedenti di polizia. Durante il controllo è stato scoperto e sequestrato un laboratorio abusivo adibito alla preparazione di prodotti alimentari destinati alla vendita ambulante, anch'esso in pessime condizioni igieniche e senza alcuna autorizzazione. Il blitz compiuto ha consentito di far acquisire agli investigatori della polizia importanti elementi di indagine volti all'individuazione dei responsabili della corsa clandestina, oggetto di un video che è stato diffuso nei giorni scorsi sui social e dagli organi di stampa.